Simone Recca è stato fondamentale in tutto, in tutte le opere che ha seguito, le intuizioni che ha avuto, la grandezza, il genio assoluto, il genio, qui parliamo di genio, è possibile che questo paese si dimentichi dei geni? Quello che invece fa una grande tristezza e detto francamente anche un po' di disgusto è la diserzione di certa masnada di sedicenti, registi, attori, impresari, cantanti, intellettuali che l'hanno totalmente abbandonato. In questo momento non ho nessuna voglia di fare nomi, ma ci sono tanti che dovrebbero vergognarsi. In questo momento non ho nessuna voglia di fare nomi, ma ci sono tanti che dovrebbero essere in questo momento non ho nessuna voglia di fare nomi, ma ci sono tanti che dovrebbero essere amici. Grazie a tutti.